io faccio video su youtube principalmente uso instagram come modo di comunicare con i miei seguaci l'uscita dei video e mi sono accorto è una cosa divertente che instagram ha superato youtube di seguaci adesso utilizzerò youtube per annunciare l'uscita dei post di instagram mentre aspetto che inizi la lotta tra che sai e logan paul posso svelare un segreto a tutte le ragazze a nome di tutti i ragazzi posso dire che ogni tanto utilizziamo il cellulare il touch screen col pisello non che io lo faccia ovviamente jake paul è ridotto male i fratellini se le danno di santa ragione non me l'aspettavo questa preparazione da parte di deji che risponde bene al fuoco di jake paul che è ridotto molto male diciamo molto bene mi sono distratto ho messo troppo sale sulla carne mentre guardavo la lotta danna porca puttiamo chi è il vincitore una oggi un pareggio siamo tutti sconvolti cosa